Anticipazione Il Segreto, lunedì 13 maggio 2019 Prudenzio giunge alla casona con cattivissime notizie. Spiega a Maria, Raimundo e Fernando che i soldi per pagare il riscatto dei Castagneda saranno disponibili solo tra qualche giorno e non entro il termine dato dai sequestratori. Emilia e Alfonso rischiano di passare a miglior vita? Maurizio sa qual è il segreto che Raimundo custodisce nelle segrete della villa e ne parlano. Ai due inoltre è chiaro che Fernando sia il loro nemico e per Godoy non dovrebbe interessarsi alla liberazione di Castagneda. Raimundo però lo convince a collaborare insieme a lui e a far finta di nulla di fronte al Messia. E' l'unico modo per scoprire le sue mosse e far emergere molte verità inquietanti. Grazie a tutti.